Ciao a tutti ragazzi sono Aloha Aloha ed oggi volevo fare questo video per commentare insieme a voi gli annunci in tema manga e anime fatti dalle varie case editrici a Lucca 2019 come gli anni scorsi siamo su Anime Click e come gli anni scorsi vale sempre la solita premessa fondamentale ovvero sia che questo video riassumerà in breve le mie opinioni per quanto riguarda tutti gli annunci fatti appunto alla celebre fiera toscana ma queste opinioni per motivi anche tempistici saranno molto brevi e a volte anche non troppo informate quindi non stupitevi se alcune cose francamente non le conosco saranno semplicemente delle prime impressioni come al solito e di conseguenza vi invito poi alla fine del video a commentare su determinate opere se voi le conoscete meglio e via dicendo iniziamo con la prima casa editrice che si è presentata ovvero sia Jpop per quanto riguarda Jpop ve lo dico fin da subito penso sia stata una gran bella conferenza in linea con quelle diciamo degli anni precedenti partiamo infatti con alcuni annunci su Tezuka che appunto abbiamo visto è stato ripreso abbastanza bene un po' da tante case editrici ma da Jpop in particolare e appunto la casa editrice ci ripropone la principessa Zaffiro primo titolo e secondo Futago no Kishi l'albero del sole SF Mix e Blackjack che se vogliamo probabilmente è il titolo più di successo in patria dell'autore sono molto contento diciamo di avere queste riproposte di Tezuka perché sinceramente non ne ho mai letta nessuna quindi questa potrebbe essere una bella occasione soprattutto per quanto riguarda la principessa Zaffiro e Blackjack che malgrado non li abbia letti li conosco diciamo di fama gli altri due invece sinceramente no però potrei comunque dargli un'opportunità quindi ottimi questi annunci dopodiché ci sono stati anche degli annunci in tema novel come Oltre nel nuvole e Viaggio verso Agartha entrambe di Makoto Shinkai e After Hours di Yuta Nishio titoli che francamente non mi interessano però questo insomma non conta più di tanto credo siano comunque dei buoni annunci notiamo tra l'altro molto belle le grafiche che ha utilizzato Jpop devo dire è stata una mossa abbastanza riuscita abbiamo poi Gone di Masashi Tanaka questo sono sicuro fu proposto la prima volta da Star Comics e potrebbe essere un acquisto interessante Demon Tune Final Fantasy VII diciamo uno spin off credo legato al celebre videogioco Re Cyborg e Tokyo Ghoul Zaki Re anche questo probabilmente uno spin off dello stesso manga per quanto riguarda questi titoli sinceramente mi incuriosisce un po' Demon Tune ma non più di tanto invece Gone quello mi incuriosisce abbastanza sinceramente ma nel complesso niente che diciamo mi faccia scalpitare dopo di che abbiamo il lato più femminile di annunci come Lettera a me stessa La Mia Prima Volta 2 che diciamo segue alla Mia Prima Volta 1 che fu annunciato l'anno scorso Sayonara Miniskirt Metamorphose no Engawa e Kazan entrambi o comunque tutti i titoli in realtà che chiaramente non mi interessano più di tanto però sappiamo che il lato femminile si sta prendendo il suo posto tra le varie case editrici in modo molto preponderante alla fine è giusto anche che sia così malgrado io sinceramente che per ovvi motivi non ne sia troppo coinvolto sempre diciamo per quanto riguarda il lato sentimentale abbiamo Love Stage, Jackass, Il Gioco del Gatto e del Topo Escape Journey e Void tutti i titoli che non conosco e che a un primo impatto sinceramente non mi interessano purtroppo la cosa negativa diciamo almeno qui diciamo di questa grafica J-pop è che purtroppo non si sa molto diciamo dei rispettivi titoli se non l'autore e così giusto un po' lo stile che si vede dalle immagini però sarebbe stato bello avere come per le altre case editrici magari qualche riga di trama peccato non c'è quel lato di informazioni lì però a prima vista comunque queste sono tutte over che probabilmente non mi riguarderanno mai quindi abbiamo il lato Go Nagai che è autore di punta per la casa editrice negli ultimi anni come Gekkyman, Shoot and Doji, Il Banchetto delle Tenebre Shin, Violence Jack, Frankenstein e Seventeen questi ultimi due non proprio di Go Nagai in realtà magari sono sì sono altri autori effettivamente comunque direi che di tutto questo non mi interessa niente a livelli eccessivi insomma non penso che acquisterò questi titoli mi lascerò ispirare da altre cose probabilmente e concludiamo con questi We Are The Best e abbiamo Wisdoms No Kemono Tachi Act Age e Land of the Lustrous tutti titoli che così non mi dicono troppo in realtà però ripeto purtroppo non ci sono grandi informazioni io tra l'altro le avevo cercate qualche tempo fa qualche ora fa prima di girare il video sempre su Anime Click ma mi sono già dimenticato tutto quindi non vi so dire molto in ogni caso se voi conoscete meglio queste opere fatemi sapere la vostra perché così a primo impatto non mi ispirano troppo per quanto riguarda J-pop però oltre alla conferenza che mi sembra sia stata molto ben strutturata e a varie riproposte che di sicuro acquisterò mi piace molto l'eterogenità diciamo delle proposte c'è un po' di tutto un po' per tutti e anche la quantità non è male oltre che la qualità quindi J-pop per quanto mi riguarda promossa anche quest'anno anche quest'anno direi come voto almeno un 7 francamente quindi andiamo avanti passiamo quindi a Ikari per 001 Edizioni che di fatto è una casa editrice che non ho mai avuto modo di conoscere cioè non ho mai acquistato niente per loro però appunto quest'anno si sono presentati anche loro a Lucca e abbiamo qualche opera di Tezuka come Birdman Atoyo Ten Made abbiamo poi Shinsetsu Sekai Shi Taizen grazie per aver tradotto tutti questi titoli così da rendermi tutto più facile Il Grande Funerale questo grazie a Dio l'hanno tradotto e basta ovviamente si tratta di una casa editrice minore rispetto alle altre di conseguenza non c'è molto però mi ero accorto effettivamente che nell'ultimo periodo stavano pubblicando varie cose di Tezuka francamente di quelle poche cose pubblicate non c'è niente che mi ispiri particolarmente quindi per ora lascio perdere ma comunque insomma un bene che si siano presentati anche loro passiamo a questo punto a una big delle case editrici cioè a Star Comics e mi dispiace dirlo ma quest'anno Star Comics personalmente almeno ha davvero deluso purtroppo non c'è niente che davvero mi sia così piaciuto a primo impatto adesso io gli annunci li ho visti qualche giorno fa quando appunto ci sono stati ma adesso li riguardo credo francamente di non ricordarmi male allora abbiamo di Umez vari titoli come Orochi e basta solo Orochi davvero ne ricordavo qualcun altro comunque abbiamo Orochi che sinceramente credo di saltare non è un tipo di lettura che in questo momento può ispirarmi abbiamo poi Ariadne in the blue sky dello stesso autore di Claymore se non sbaglio e questo seguendo anche alcuni commenti qua sotto avevo letto dovrebbe essere il titolo di punta di Star Comics per questa lucca ma francamente non non mi ispira così tanto cioè tra tutti forse sì però non troppo non lo comprerei al volo cioè è uno di quei titoli in forse diciamo poi ecco appunto di un mezzo c'è qualcos'altro mi ricordavo bene Saint Ray Baptism però vale lo stesso discorso di prima sono titoli che in questo momento non ho voglia di affrontare per così dire di Utena abbiamo due titoli probabilmente After the Revolution è il seguito del primo credo il primo Atena tra l'altro già pubblicato in passato credo ma sono entrambi titoli che non mi interessano Seiri Chan discorso simile non non mi ispira sinceramente Ataraku K questo invece è curioso devo dire ha uno stile che boh vedendo qua le poche immagini che ci sono un po' surreale che sembra carino però non lo so è comunque un volume unico però boh sarà di quelli ultra costosi eccetera eccetera però vedremo comunque anche qui niente che prenderei ad occhi chiusi diciamo poi abbiamo Heavenly Delusion anche qui sinceramente non mi ispira è tutta roba abbastanza recente tra l'altro se vedete sono usciti pochi volumi in patria di queste cose quindi non è facile trovare informazioni su questi titoli proprio perché c'è poca gente che soprattutto qui da noi ha iniziato a leggerli questi titoli poi abbiamo Kaguya Sama Love is War se non sbaglio questo esatto è l'ultimo titolo e di questo invece come vedete sono già usciti 16 volumi e infatti ho trovato delle opinioni intanto ho trovato delle opinioni su questo titolo quindi è già qualcosa ed erano delle opinioni anche positive quindi questo potrebbe essere un titolo diciamo da prendere in considerazione ma anche qui a livello personale non mi ispira troppo è uno di quei manga che potrei iniziare in un momento di magra per così dire dove magari non ho altre pubblicazioni in ballo se no sinceramente non lo so devo dire la verità nel complesso Star Comics mi è sembrata un po' deboluccia quest'anno ora io non ricordo se l'anno scorso avesse presentato così poca roba in termini di quantità perché qua mi sembra ci sia anche poca roba proprio a livello quantitativo ma di sicuro mi ricordo che l'anno scorso c'era stato qualcosa che insomma mi era apparso un po' più interessante per la casa editrice perugina quindi non lo so per me Star Comics bocciata sinceramente direi un 5 niente di più purtroppo non credo che prenderò qualcosa per loro a meno che i vostri commenti non mi facciano cambiare opinioni passiamo a Bao Publishing anche per questa casa editrice in realtà non c'è molto abbiamo Tu sei il più bel colore del mondo Aweto Shinya Shokudo Princess Mason Okinu e basta titoli sui quali veramente spendo poche parole semplicemente perché credo non siano quello che sto cercando al momento mi sembrano dei titoli molto artistici quasi da autore il che potrebbe renderli sicuramente delle letture eccezionali però ad un primo impatto ripeto non è questo che mi affascina troppo magari a mente fredda eccetera sicuramente capiterà di leggere anche qualche opinione o qualche recensione ben fatta su queste opere ma per ora non è niente che che mi ispiri troppo andiamo quindi con Planet Manga e purtroppo anche Planet Manga se non ricordo male non ha presentato niente che mi abbia colpito troppo però l'inizio devo dire non era stato male infatti vediamo che era partita forte con le opere di Inyo Asano e di Urasawa abbiamo Inyo Asano Short Stories e Yushatachi appunto opere delle quali ovviamente non so niente ma credo siano dei veri e propri inediti questi e sono entrambi volumi unici tra l'altro non so se mi converrebbe iniziare per questo per questo autore appunto da queste opere visto che non ho mai letto niente di Inyo Asano quindi è un po' scandalosa come cosa però potrebbe essere un'idea ma a dire il vero ripeto anche così dandogli un'occhiata non 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 mi coinvolgono troppo così a vederli qui passiamo quindi ad alcuni annunci per quanto riguarda Shuzo Oshimi che anche lui ultimamente è stato pubblicato parecchio abbiamo Sweet Poolside e Avantgarde Yumeko che sono entrambi dei volumi unici Devil Ecstasy che è in quattro volumi serie conclusa e Yutai Nova anche questa conclusa in soli due volumi di queste opere qualcosa effettivamente potrei prendere ripeto niente che mi faccia scalpitare però effettivamente è un autore che non mi dispiace e di conseguenza potrei farci un pensierino visto che tra l'altro non sono letture almeno dal punto di vista numerico troppo impegnative passiamo invece agli annunci per quanto riguarda Urasawa e abbiamo Asadora titolo che non conoscevo assolutamente ma leggendo alcuni commenti sembrerebbe trattarsi di una vera e propria bomba per quanto riguarda Planet quindi forse l'annuncio di punta di tutta la manifestazione il che mi stupisce un po' semplicemente perché non lo conoscevo ma ci sta ovviamente quindi potrei farci un pensierino anche qui purtroppo sono usciti solo due volumi quindi non ho trovato nessuna opinione o recensione su quello che è stato pubblicato finora in Giappone ma non importa insomma vedrò anche di vedere se qualcuno di voi ne sa qualcosa in più potrebbe sicuramente valerne la pena insomma Naoki Urasawa non ha certo bisogno di presentazioni di conseguenza è un nome che fa da garanzia è stato pubblicato poi anche un volume unico Kushami Naoki Urasawa short stories anche questi forse sono dei capitoli esatto delle storie brevi questo magari mi attira un po' meno visto che in realtà dell'autore mi mancherebbero altre pubblicazioni più grandi da recuperare però boh staremo a vedere andiamo avanti con Dakeretai Otokuichi Ni Odosarete Imaso grazie per aver tradotto anche in questo caso sembrerebbe uno Yaoi a quanto pare quindi non non credo che potrebbe interessarmi Endevi anche questo titolo che francamente non mi dice nulla Dororo To Yakimaru Den soggetto originale di Tezuka tra l'altro questo è abbastanza è abbastanza vincente diciamo per quanto riguarda lo stile non non mi incuriosisce poco abbiamo per concludere Chance of Man in quattro volumi ongoing in edicola e fumetteria tra l'altro attenzione quindi forse si tratta di un titolo abbastanza potente dall'autore di Fire Punch che tra l'altro a me era piaciuto piaciuto abbastanza anche questo secondo molti è un annuncio diciamo di un certo peso mi attira abbastanza non è tra le mie priorità sinceramente però anche questo è un annuncio discreto diciamo e quello era l'ultimo annuncio di Planet per quanto riguarda la conferenza in generale buoni buoni annunci devo dire puntare su degli autori che sono stati già pubblicati toglierà forse per qualcuno un po' di originalità ma secondo me invece dà un po' di continuità nelle pubblicazioni quindi è solo una buona cosa alcuni titoli effettivamente mi interessano anche se non c'è quella cosa che in questo momento mi strappa il cuore però una buona conferenza in generale io direi un 6 non do di più semplicemente perché non c'è quella cosa che mi fa impazzire però un 6 sicuramente passiamo ad Init per quanto riguarda gli annunci manga anche qui siamo brevi perché a dire il vero non c'è molto da dire abbiamo La Villa dell'Acqua L'Amante Okyoku Depth Store Kafka Classic in Comics Memoria di un ragazzo per bene Miss Okusai 36 gradi centigradi La Leggenda Oscura Hot Road Zenryaku Zenichi No Kimi Saturn Return Avrei voluto Dirti Grazie Cranon Shin Chan Best Selection Seven Days War Light Novel Allora diciamo che come quantità di Init effettivamente ha proposto abbastanza fino a qualche anno fa sembrava una casa editrice almeno ai miei occhi quasi sparita sui manga invece pubblica ancora a quanto pare ma sicuramente ha annunciato più robe dell'anno scorso ma niente che mi interessi troppo anche perché punta molto su titoli davvero importanti da autori eccetera che oltre a costare parecchio probabilmente ma è tutta roba che personalmente recupero un po' a posteriori non sono mai cose diciamo che mi affretto a prendere subito perché aspetto un po' di vedere come reagisce il pubblico quindi in questo momento per Dinit niente personalmente ma non voglio dare un voto perché per il resto non mi sembra una brutta conferenza sempre Dinit si è comportata abbastanza bene anche per quanto riguarda gli annunci anime abbiamo Demon Slayer che è in fase di doppiaggio e sarà potenzialmente pronta per fine anno abbiamo Fet's Day Night Events Phil che uscirà al cinema Seven Days War l'obiettivo è portarlo al cinema e questo sembra interessante Mario Academia The Movie questo vabbè non sono un fan di Mario Academia quindi non mi interessa personalmente però è giusto che avendo loro il franchise ripropongano anche questo film Promar anche questo sembra abbastanza interessante e per il resto ci fermiamo qui francamente mi sembrano dei buoni annunci pur non conoscendo niente nello specifico tranne Mario Academia che leggevo fino a qualche tempo fa e che per assurdo è la cosa che mi interessa meno di quello che è stato annunciato mi sembrano appunto delle opere di valore che potrebbero meritare un po' di attenzione quindi bene di fatto bene anche in questo caso questi annunci anime e commentiamo purtroppo l'unico annuncio di Yamato Video che è il film di Assassination Classroom che arriverà nel 2020 al cinema che però come potete immaginare essendo l'unico annuncio da parte di Yamato si prende tutta l'ilarità diciamo degli utenti che chiaramente sfottono in modo impressionante questa casa che effettivamente ne sta combinando di cotte e di crude negli ultimi anni comunque ovviamente senza voto perché non c'è non c'è assolutamente niente da dire in questo caso nel complesso è stata secondo me una buona una buona fiera Luca dal punto di vista degli annunci per quanto mi riguarda appunto la migliore è stata J-pop seguita da Planet e da Star che sono diciamo le tre grandi le piccole come al solito pubblicano cose un po' più di nicchia fanno comunque un lavoro che è giusto fare ma per le quali appunto di primo impatto non c'è niente che mi faccia troppo drizzare le orecchie per il resto ovviamente sono curioso di sentire la vostra sui titoli che sono stati presentati ci vediamo al prossimo video e alo alo un po' Grazie a tutti.